Buongiorno a tutti, direttivo all'Oreto Sud Roberto Caccamo, qui presente il Presidente dell'Aroberto Cappo, Nicola Gritto. Buongiorno a tutti. Siamo qui per questo evento importantissimo che è la quinta edizione dell'Aroberto Cappo, quindi un torneo parevole per i nostri minor della Confederazione e adesso procederemo ai sorteggi. Diamo un attimino il ragguaglio riguardante l'organizzazione, ci sono due gruppi da quattro giocatori, passeranno i primi due, primo e secondo che si incroceranno poi nelle semifinali che daranno poi il vesico finale. E niente, quindi andiamo subito ai sorteggi. Andiamo adesso ai sorteggi, abbiamo già determinato le teste di serie che sono Nicola Gritto per il Gruppo A, in qualità di Presidente dell'Evento e Sasu Codronei in quanto primo in classico. Quindi andiamo, le palline verbi sono le fascia numero uno, palline arancioni fascia numero due, palline gialle fascia numero tre. Quindi abbiamo degli illustri ospiti qui, Filippo Lovresti, in arte magician, grazie, andrà a estrarre. Allora Filippo devi estrarre la pallina verde, quindi la pallina verde. Secondo me sono io uscito a loro, è il gruppo di trittori, questo è il gruppo A. Quindi questa va nel gruppo A, pallina verde, gruppo A, Roberto Caccamo, Roberto Caccamo, Vardo Nicola Tritto. L'unica rimasta, chi ci sarà mai, l'eterno rivale di mille storiche battaglie che ormai si ripete ad ogni evento. Fabio Gurneri, Fabio Gurneri andrà ad affrontare Sasu Cotronei. Presidente, questo personaggio che uscirà andrà ad affrontare, quell'arancione, andrà ad affrontare Nicola Tritto e Roberto Caccamo, quindi qui presenti. Sarà Nino Foti o Filippo Lovresti? Ed è proprio lui. Filippo Lovresti, ancora una volta. Filippo Lovresti. Filippo Lovresti, quindi. Mamma mia. Filippo Lovresti, grazie. Filippo Lovresti nel gruppo A, che affronterà il sottoscritto ancora una volta. No, ma che... Nel gruppo B. Nel gruppo B, accanto a Sasu Cotronei e a Fabio Gurneri, ci sarà Nino Foti. Quindi l'artista, semifinalista dello scorso evento, Nino Foti. Il mio gruppo è un pochino per questa cosa. Adesso, e questo diventa importante. Ci mancano? Ah, Gagliotti. Mancano Giovanni Matrici e Fabio Gagliotti. Che fanno poi il tesoro di lato. Ah, io e io un altro. Ecco, Filippo Lovresti. Questo sorteggiato andrà nel gruppo A, assieme a Nicola Tritto, Roberto Caccamo e Filippo Lovresti. Giovanni Matrici, questo è veramente un bellissimo incontro. Fai vedere di fronte al gruppo A, Fabio Gagliotti, va nel gruppo B. Fabio Gagliotti, va nel gruppo B. Fabio Gagliotti, quindi già possiamo... Signori, per rilogare, avremo un gruppo A, diciamo abbastanza combattuto, con Nicola Tritto, che da presidente se la dovrà vedere con Roberto Caccamo, Filippo Lovresti e Giovanni Matrici, un bel gruppo abbastanza tosto. Nel gruppo B avremo un'eterna rivalità tra Sasso Codrone e Fabio Gurnali, che si affronteranno reciprocamente nella prima partita. Poi Nino Foti, per completare, e Fabio Gagliotti. Ciao a tutti, ci vediamo il 5 ottobre, quindi con l'elento di giornale. Faccio io, faccio... WAHU! 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 Sì, questo... Sì, sì, è vero. È vero. È molto male, è bella tutta la fette. Cos'è una cosa? Ehm... Mi sa stanno chiedendo. Che non va bene come mani. Mi vuole preparare, devi preparare i spazi. Se io non lo stavo... Te devo tagliarlo, ah! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.